Ciao a tutti ragazzi, per questo video andiamo a prendere così come una carta può essere simile, come questo asso di cuore, questo asso di cuore andiamo così a prendere la zannuazza che poi andiamo così a mescolare vediamo, così, ok, ora scopriete ovviamente non salta l'acquari d'acqua, ma il tuo canto Ciao a tutti Ciao a tutti